Capire con quale probabilità si manifesteranno le precipitazioni per intraprendere misure necessarie di adattamento e progettare opere idrauliche in difesa del territorio. A questo servirà Secure, la nuova app presentata stamane a Palazzo Balbi. Ha il compito di dare degli strumenti soprattutto ai progettisti di opere idrauliche perché l'incremento della temperatura che abbiamo registrato di 1,5 gradi negli ultimi 30 anni comporta, come è stato anche spiegato questa mattina dal professor Marani, un incremento della frequenza dei fenomeni meteo estremi, questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi per far fronte a questa situazione è necessario intervenire con opere di difesa del suolo e opere che devono essere adeguatamente dimensionate. Questo strumento serve per arrivare a un dimensionamento corretto delle opere per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. L'app realizzata con Arpave e Università di Padova diventa così uno strumento preziosissimo per difendersi dalle precipitazioni più intense. Tra i tantissimi dati appare ad esempio che le massime precipitazioni di 6 ore si sono verificate nel 2018, mentre l'anno peggiore risulta 2014, seguito dal 2024, dal 1965 e dal 1960. Per esempio ieri abbiamo avuto alcuni eventi, questa notte abbiamo avuto alcuni eventi importanti nella provincia di Belluno ma anche nella provincia di Vicenza, i dati sono disponibili da Arpave, è possibile vedere che sul Grappa per esempio è avvenuto un evento che ha un tempo di ritorno superiore a 300 anni, cioè è l'evento più grande mai registrato, quindi possiamo capire quanto importante è stato l'evento che abbiamo sperimentato per esempio. La rete di raccolta dei dati operante 24 ore su 24 è composta da oltre 200 pluviometri installati a cura di Arpave che inviano un dato ogni 5 minuti. Questi pluviometri hanno un grande vantaggio che sono stati elettrificati, quindi noi possiamo misurare con grande precisione i quantitativi anche delle precipitazioni di breve durata, cosa che su pluviografi o pluviometri totalizzatori è molto più difficile da fare.